Abbiamo il piacere di avere ospiti Samantha di Persio con un suo libro freschissimo di stampa che è innanzitutto una testimonianza di coraggio di questa scrittrice giovane intellettuale, forse non è neanche sbagliato aggiungere la qualifica di giornalista, nel senso di cacciatrice di notizie e di informazioni che spesso non arrivano al lettore frettoloso dei giornali, spesso i giornali anche trascurano una informazione dettagliata sui problemi o reali o particolarmente critici. L'argomento che viene toccato questa sera è un po' compendiato dal titolo del libro, la pena di morte italiana. Qualcuno potrebbe subito dire ma come? Noi non abbiamo la pena di morte nel nostro ordinamento giudiziario. La provocazione, il suggerimento sta qui appunto nel titolo perché poi si scoprirà che ci sono tanti modi per erogare più o meno subito la mente, la morte e soprattutto agendo nei confronti dei più deboli, degli ultimi, di quelli che non hanno strumenti da opporre, vuoi di carattere culturale, inteso questo come autonomia piena d'azione o non hanno strumenti pecuniari. Ricordo che l'incontro con Samantha Di Persio avviene una collaborazione tra il Centro Culturale Pasianese Spazio Aperto e il Movimento Agende Rosse del Friuli Venezia Giulia, Movimento Agende Rosse che si collega alla vicenda di Paolo Corsellino che chiama immediatamente in causa il fratello testimone di un sacrificio che abbiamo affrontato probabilmente con molta consapevolezza da parte di questo giudice, Movimento dell'Agende Rosse che si batte come tanti altri, credo con più o meno energie, con più o meno forza per la difesa della legalità, ma direi meglio per una introiezione in senso civico, in senso morale della legalità e contemporaneamente possiamo dire, visto che oggi la giornata ha una certa connotazione per la difesa della Costituzione e di ciò che questo documento basilare, fondante la società italiana contiene.